Buonasera Sindaco, siamo qui all'inaugurazione del nuovo sintetico del Busca, come nasce questa idea? Beh, è un'idea che avevamo in progetto da qualche anno, finalmente ci siamo riusciti, siamo orgogliosi di quest'opera perché credo che con questo nuovo campo sintetico l'attività del Busca Calcio potrà sicuramente migliorare, avrà delle strutture ancora più attuali e moderne. Il Busca ha 102 anni di vita, quindi è una società sicuramente storica della nostra provincia e come amministrazione ci teniamo molto perché questo campo servirà sicuramente per implementare l'attività giovanile, quindi l'attività di tutti i nostri ragazzi, che già sono numerosissimi, ma credo che aumenterà ancora la qualità e la disponibilità di strutture, quindi siamo soddisfatti e orgogliosi di questo campo sintetico. Un salto di qualità insomma? Sì, perché fino all'altro ieri le squadre giovanili si allenavano anche fuori dal nostro comune, quindi con tutta una serie di perdite di tempo e di trasferimenti che oggi non saranno più necessari e si potrà utilizzare questo campo sintetico. Grazie.